Eccoci qui cari amici di Viene a Vivere all'estero, buongiorno e benvenuti, spero di trovarvi bene e oggi sono qui subito a cercare di fare un video urgentemente perché vedo che c'è una serie di messaggi in giro, gente tra i clienti che ho seguito, tra le persone che scrivono nei commenti che talvolta fanno delle considerazioni che devo intervenire, devo intervenire perché c'è questa frase che sento spesso, che magari l'ho scritta nel titolo, eh l'Irlanda mi ha deluso, eh non mi aspettavo che era così, che delusione, ci sono rimasto male, ragazzi non è che il posto che voi avete scelto, che vi siete fatti i film mentali deve corrispondere ai vostri film mentali, io non so che film vi siete fatti, quando dico delle cose magari oggettive sull'estero diciamo ah no perché loro sono gentili perché dentro... date retta a chi ha vissuto per 15 anni all'estero e sa certe cose per esperienza, quindi non fatevi film mentali e poi dopo non corrisponde alla realtà ci rimanete male. Quindi qualcuno ha mai detto che l'Irlanda dovesse essere un posto perfetto dove le persone gentili fossero allo stesso tempo tutte buone d'animo? Qualcuno ha mai detto che non c'è non c'è da aprire gli occhi perché c'è sempre da magari fare delle cose secondo un certo criterio? Quindi quello che voglio dire, non idolatrate nemmeno il posto dove volete andare, che vi piace, di cui seguite la cultura, sicuramente dovete avere una attrazione, una chimica, ma non aspettatevi che sia al 100% perfetto, che le cose vi vadano sempre dritte, cioè abituatevi al fatto che alcune cose andranno un po' storte a volte, che vi faranno a volte un po' male, abituatevi al fatto che l'estero non è la panacea semplicemente perché a più magari certi paesi hanno più risorse, sono più politicamente corretti e le persone sono più sorridenti e gentili piuttosto che cafone e arrabbiate come spesso vediamo gli italiani nelle grandi città. Quindi non fatevi viaggi mentali pensando che ah lì deve essere tutto perfetto perché ho visto quattro cartelline di prati verdi e pecore contente per cui le cose devono per forza girare bene. No, le persone hanno i loro bias cognitivi, ci sono persone che per il solo fatto che siete italiani non possono già vedervi perché sono presi qualche fregatura da qualche altro italiano, ci sono persone che per il fatto che siete italiani vi adoreranno, cioè non ci sono delle regole per cui potete dire ah mi specialmente i primi tempi non potete neanche diciamo rilassarvi più di troppo perché dovete aprirvi la vostra via e conoscere dove siete. Quindi abituatevi anche a rimanerci un po' male, abituatevi anche alle cose che vanno un po' storto, è normale, è normale. Chi viene in consulenza con me chiaramente lo abituo un po' di più su cosa aspettarsi, gli faccio una formazione mentale, non gli do solo informazioni ma gli formo mentalmente, emotivamente cosa, come deve reagire a certi scenari in modo tale che sia diciamo più incrollabile, più di lungo termine la sua missione all'estero. Però ad ogni modo non idolatrate nessun popolo, ogni paese, ogni popolo ha i suoi pro e i suoi contro perché sennò rischiate di rimanere traumatizzati, di tornare indietro con la coda tra le gambe e di pensare che dice ma in Norvegia tutti quanti guadagnano lo stipendio alto, sono dato io, chi l'ha detto? Tutti quanti ma non in tutti i settori, se fate un part time sicuramente sarà diversa la condizione. Quindi ragazzi ci vuole un po' sentire le persone che hanno già fatto certi passi, che vogliono incoraggiarvi ad andare all'estero a fare questa esperienza, ma non pensate che sia la bambaggia, specialmente ai primi tempi perché sarete inevitabilmente un po' gli ultimi arrivati. Bene ragazzi, scusate che a volte mi prendo emotivamente, io quando leggo certe cose, vedo certe cose, mi fa piacere perché da una parte resto in contatto con la realtà, ma dall'altra dico ma ragazzi cosa vi si è messo in mente? Il paradiso non esiste, bisogna aspettare per chi crea nel paradiso, bisogna aspettare l'altra dimensione. Va bene, buona giornata ragazzi e non idolatrate niente e nessuno, ok? A presto, ciao!